Ci è giunto in redazione un comunicato stampa firma degli esponenti del Massala Football Club che fanno sapere di non avere le potenzialità economiche per portare avanti il campionato e che sono disponibili a cedere gratuitamente il titolo e se ciò non avverrà in tempi brevi la possibilità concreta del ritiro da parte della squadra al campionato di promozione che stanno disputando con zero punti in classifica con uno manipolo di giovani che naturalmente dà l'anima ma è una squadra inadeguata per la categoria naturalmente ci sorgono diversi punti interrogativi il principale è legato alla trattativa che c'è stata con l'imprenditore Ettore Minore trattativa che non si è chiusa felicemente trattativa che implicava comunque un pagamento per il passaggio societario quindi in quel caso non si sarebbe trattato certamente di un passaggio gratuito adesso sembra che le cose siano cambiate però con il trascorrere delle settimane la situazione del Massala Football Club si è fatta sempre sempre più difficile staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore grazie a tutti grazie a tutti